pace bene cari fratelli e sorelle ben trovati in questa quattordicesima domenica entriamo nel sesto capitolo del vangelo secondo marco e incontriamo il rifiuto che gesù subisce da parte dei suoi concittadini tenete conto questo episodio prefigura il rifiuto di israele e anche le resistenze che da sempre sono radicate nei nostri cuori davanti allo scandalo dell'incarnazione in modo semplice questo testo ci aiuta anche a chiederci può capitare persino a noi di rimanere imbrigliati nelle nostre idee o preconcetti non aprendoci all'opera di dio in noi in chi abbiamo accanto purtroppo sì ed è una brutta schiavitù andiamo al testo gesù ha iniziato a predicare a compiere prodigi è conosciuto è diventato un po la gloria locale un sabato gesù torna nazareth dove ha vissuto circa 30 anni e va ad insegnare nella sinagoga molti ascoltandolo si meravigliano ma in senso scettico il termine è complesso mai ed esprimono questo stupore in una serie incalzante di cinque domande le prime tre da dove gli vengono queste cose che sapienza è quella che gli è stata data e i prodigi che compie avvertono che in gesù c'è qualcosa di più ma non ne colgono l'origine noi educati alla fede sappiamo che in gesù si rivela la sapienza e la potenza di dio ma i nazaretani non riescono a fare questo salto o meglio non sono disposti a farlo perché perché lo riducono a quel che pensano di sapere su di lui le altre due domande infatti sono non è costui il falegname il figlio di maria il fratello di giacomo di ioses di giude di simone e le sue sorelle non stanno qui da noi gesù è un falegname punto è figlio di maria i suoi parenti sono qui la sua famiglia la conosciamo punto lui è questo niente più non sono disposti ad andare oltre a riconoscere che in gesù c'è un di più che non viene dalla carne dal sangue ma da dio dandogli quindi ascolto e fiducia possiamo dire che rimangono bloccati nei loro giudizi meramente umani prigionieri di uno sguardo che pretende di racchiudere l'altro in quattro definizioni incapace di andare in profondità e cogliere il segreto delle cose è una cosa molto comune miei cari rimanere imbrigliati nell'idea che ci facciamo della realtà e delle persone se vogliamo lasciarci stupire da dio se vogliamo fare un salto in una fede più profonda se vogliamo entrare nella realtà abbiamo bisogno di non assolutizzare le nostre idee i nostri criteri le nostre prospettive l'idolatria della mente è una delle idolatrie più potenti ho il mio punto di vista mi ci attacco al punto da negare anche l'evidenza pur di non mollarlo qualora fosse sbagliato quanti ad esempio dicono di non credere in dio in nome della propria ragione ecco il problema è che non credono in un dio trascendente ma hanno fatto della propria scatolina cranica il loro dio che con tutto il rispetto è certamente poca cosa rispetto all'onnipotente ecco è pericoloso assolutizzare la propria opinione e ridurre dio e gli altri e propri schemi anche nelle relazioni fraterne vi faccio un esempio semplice quante volte di una persona si conosce il nome e poco più e se ne parla tranquillamente dicendo sì la conosco lo conosco quello è così e cos'ha ma che conosci che sai ogni realtà specie dio e le persone hanno una dimensione molto più profonda e ci vuole umiltà simpaticamente tornando all'atteggiamento dei nazaretani il cardinale ravasi ha detto la reazione delle persone superficiali è sempre scontata si fissa magari sui particolari dell'abbigliamento sulle chiacchiere dei parenti sulle piccinerie di paese anziché cogliere la straordinarietà delle parole e degli atti di gesù i nazaretani si fissano sull'ordinarietà della sua vita e si chiudono quasi pensando ma questo è uno di noi come si permette di ergerci sopra di noi di fondo miei cari abbiamo lo scandalo dell'incarnazione cioè riconoscere che dio si rende presente e opera nella nostra carne in modo tanto semplice e al di là dei nostri criteri di fondo quando si rifiuta tutto ciò si parte da un'idea distorta di dio un dio potente che opera in modo vistoso e quindi in questo caso manda un messia vittorioso ad esempio secondo alcune tradizioni il messia avrebbe avuto origini familiari nascoste misteriose per questo ci dice marco che gesù era per loro motivo di scandalo cioè un ostacolo alla fede può capitare anche a noi tutto ciò purtroppo sì vi faccio alcuni esempi allargando un po la prospettiva anzitutto perché il cristianesimo è talvolta snobbato perché ritenuto troppo banale dio che si fa uomo è quel tipo di uomo suona semplicistico pensate al graffito al palatino fatto dai romani nei primi secoli come insulto a cristo e ai cristiani un disegno che raffigura gesù in croce con la testa d'asino perché perché era assurdo per loro pensare che quello lì fosse dio dio quello potente dominatore ma non può essere un uomo vissuto povero morto tra parentesi e risorto per amore delle sue creature che ama sino alla fine no no affascinano anche oggi cose più misteriche pensate non so a correnti tipo scientologi la massoneria roba nascosta con misteri da da conoscere magari a pagamento con gradi nei quali crescere insomma cose più alla portata della nostra superbia gesù troppo semplice eppure qualcuno disse che proprio le cose semplici sono le più belle ma può capitare anche a noi di pensare di conoscere gesù quando in realtà non è così purtroppo sì vuoi per le tante banalità di cui ci si nutre vuoi per un annuncio limitato ricevuto su gesù vuoi per la nostra fede non coltivata vuoi per delle testimonianze di cristiani non proprio edificanti quanti pensano di conoscerlo invece no e cercano altrove ciò che solo lui ci può dare la salvezza mi colpiscono molti giovani che nel corso del cammino che proponiamo condividono come gesù effettivamente non l'avessero incontrato e conosciuto ne avevano un'idea distorta parziale limitata ecco uno studioso scrisse per cogliere il mistero della persona di gesù bisogna aprirsi al gesù reale e non ridurlo al ritratto che c'eravamo fatti di lui per questo è necessario lasciarci sempre rievangelizzare dal vangelo accogliere con umiltà e amore le parole di gesù coltivare l'intimità con le persone della trinità per diventare familiari allo spirito santo ed entrare sempre più in un rapporto personale col signore san francesco d'assisi pregava dicendo chi sei tu e chi sono io e ancora può capitare anche a noi di non riconoscere dei santi o delle sante che abbiamo vicino perché troppo banali troppo scontati purtroppo sì ad esempio quando morì santa teresina di lisier alcune sue consorelle non si erano minimamente rese conto della sua grandezza ma stasuora che vita che ha fatto ecco dottore della chiesa quante volte invece corriamo a destra e sinistra appena sentiamo di qualcuno che vede qualcosa ecco gesù davanti all'atteggiamento dei nazaretani che dice nessun profeta è bene accetto in patria anche nel mondo greco si diceva che i filosofi hanno vita difficile nella loro patria gesù si ricollega a profeti dell'antico testamento come zecchiele e geremia rifiutati e marginati persin perseguitati dai propri correligionari ecco gesù ha sperimentato anche questo sulla sua pelle ma può capitare anche a noi di viverlo o peggio ancora di farlo nei confronti degli altri purtroppo sì un paio di esempi semplici quante volte pensiamo di conoscere bene chi abbiamo accanto appicchiamo etichette come se la gente fosse un prodotto da supermercato eppure nessuna definizione può racchiudere il mistero profondo di ogni persona padre pio diceva che siamo un mistero persino a noi stessi e ancora dio ancora oggi suscita ovunque profeti uomini e donne ispirati da lui ed ecco sacerdoti religiosi e religiose laici giovani uomini e donne di dio può trattarsi di persone cresciute nella fede o di persone che vengono da vite travagliate o da vissuti difficili quante volte sono rifiutati e osteggiati da familiari amici conoscenti e magari accolti da altre persone qual è il problema non solo che sono scomodi ma che non si è disposti ad accogliere un di più che dio sta operando nel loro cuore facciamo un altro esempio una persona inizia un cammino di conversione o un giovane un cammino di consacrazione e viene bersagliato da parenti amici perché perché per loro non è possibile che dio stia operando nel cuore e senti frasi tipo io conosco mio figlio io conosco mia figlia non è per queste cose chissà che gli è successo che gli hanno detto ecco ridurre l'altro a quel che si pensa di sapere a volte non lo si fa per male magari non si capisce ciò che sta vivendo la persona ci vorrà del tempo ma pensare di sapere già è micidiale tornando al vangelo gesù pote guarirne solo alcuni coloro che si erano aperti a lui dandogli fiducia coloro che non si sono arroccati nelle loro idee o nei loro preconcetti quelli hanno vanificato la potenza di dio questi no l'hanno lasciato agire in conclusione cari fratelli care sorelle chiediamo al signore che apra mente e cuore per lasciarci stupire da dio ed entrare nella sapienza vera dobbiamo accogliere che c'è altro rispetto a quel che vediamo o pensiamo di aver capito gesù non era solo un falegname figlio di maria era anche il figlio di dio dio stesso fattosi uomo in un certo senso è così anche per noi c'è un oltre nella nostra vita noi siamo molto più della nostra infanzia delle cose che abbiamo fatto che ci sono state dette e quando si apre il cuore a dio nasce e cresce noi una vita nuova capace di trasformarci radicalmente e renderci santi chiediamo allo spirito santo che ci aiuti a conoscere sempre meglio il signore noi stessi e che abbiamo accanto liberandoci da chiusure e preconcetti imparando sempre più e meglio l'arte di amare e vivere relazioni sane che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti